Oggi faremo la challenge dei salti indietro avanti in cucina. Ok, questa squadra ha totalizzato 3 punti. Che squadra siete, Marti? Marti, che squadra siete voi? Le pinte. Vai, Ludo. Una altra schienata, Nina. Vai, Ludo. un punto solo per questa squadra un punto solo anche per questa squadra come vi chiamate? quanti punti avete fatto oggi? quindi sommati a quelli di ieri? 9 in totale? come vi chiamate? come vi chiamate? quanti punti avete fatto oggi? in totale? 8 voi come vi chiamate? quanti punti avete fatto? e in totale? 10 voi come vi chiamate? quanti punti avete fatto oggi? in totale? 3 dividetevi partite voi squadra? poi? ok ok Emma e Greta noemi e Giulia mangia i guardate lascia Ok, abbiamo cambiato squadra, Maddi e Giulia. Ludo e Anita, bello, brave, Anna e Nicole. Punti? Due punti! Sofie Marta, azzurraiale, Aurora e Isa, Joy Marta. Sempre due punti, due punti anche per voi! Cri e Eli, cambio squadra. Ifa e Irene. Isa e Ari. Via, Cri e Ale. Due punti! Allora, nome? Ari. Punti di oggi? Due. In totale? Dodici. Voi? Punti di oggi? Due. Totale? Cinque. Nome? Minimum. Punti di oggi? Due. Totale? Dieci. Voi? Due. Punti di oggi. Due. Totale? Unici. Ok, quindi sta vincendo voi con dodici. Voi undici, dieci e cinque, giusto? Domani sarà l'ultima sfida. Quindi, impegnarsi. Ok? Ciao! 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 Oggi ci sfideremo nell'andata di San Diego. Ciao! 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 Qunotizia, dei sies. Noi, non? Travях disc Geschichte. Grazie a tutti. 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 Secondo posto, Timpe e primo posto, Minnie. Quindi, fate la somma dei punti fino ad adesso. Voi dovete aggiungere tre punti, voi due, voi uno, voi zero. Allora, quanti punti siete? Maddi? 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 Quanti punti siete? Quanti punti siete? Quanti punti siete? Quanti punti siete? Ok. Eli? Tredici. Emma? Tredici. Gio? Sì. Ho detto Gio? E quindi, tutto il nostro lavoro. E quindi, tutto il nostro lavoro. E quindi, tutto il nostro lavoro è ora...